Buongiorno ragazzi e ragazze e darkini e darkine dal vostro Dark Chaos 92 Sì, mi sono svegliato proprio adesso E beh, gli youtubers si svegliano Comunque, ma beh, è champagne Allora, mi sono svegliato Intanto, ragazzi, per chi non lo sapesse sto un po' male E quindi mi tocca prendere delle pillole E più avanti forse vi dirò Il problema che ho Però Può darsi, passerà e non c'è bisogno neanche che ve lo dico Allora, intanto che mi prendo la pillola Dicevamo Quello ci voleva Allora, mentre mi sono, cioè, mi sono alzato Ho mangiato il panino Che devo prendere la pillola Quindi sono andato prima in bagno Ho preso la pillola Ma Tralasciando tutto questo Ok Suonano Al citofono Chi è? Chi è? Tutto addormentato Postino E io Arrivò Mi manda un pacco Ecco qua c'è il pacco Allora Il pacco Non so cosa sia O almeno Forse lo so cos'è Però non ne ho la più Capito? Quindi adesso aprirò il pacco E vedrò Che cacchio What the fuck Il microfono Oh mio dio Allora Dal titolo Come avrete potuto leggere Le persone sono pazze Ma pazze di me Ok? Perché questo titolo? Perché praticamente Questo microfono Mi è stato Regalato Da nonno Quindi la persona Che comunque Roberto Quello che comunque Vedete Sentite quasi sempre Nelle mie live Perché era stufo Praticamente Di Di continuare A sentirmi Pianissimo Perché comunque Il microfono che ho Attualmente Si sente piano E allora Mi ha regalato Un nuovo microfono E E niente Adesso lo apriamo E vediamo com'è Il microfono è Delle Della Samson Ragazzi Ecco qua Samson Questo è il microfono Co U Uno U Pro Ehm Non so Se è buono Però Penso di si Ehm Allora Apriamolo Ok Vediamo eh Al contrario Lo buttavo a terra Allora Questi sono Ok E questo è il microfono Nonno Mi ha detto Che piccola ragazzi Che piccola Apri Vede Eh Vabbè Poi Si vedrà Nonno Mi ha detto Che Siccome il mio È a jack Questo qua È a usb E quindi Mi ha detto È molto meglio Quella usb Ma Tralasciando questo Vediamo un po' Vediamo un po' Che cazzo è sta cosa Ma what Beh Ecco qui Il microfono Mamma mia Ma quanto cazzo pesa Minchia è bellissimo Raga È stupendo Ah è scorrevole Va bene Io Tra poco Andrò in live Ehm Sempre con il server New Razer Stars Quindi ragazzuoli Ehm Io E il microfono Nuovo Vi ringraziamo Per la visione Grazie a tutti ancora E questo microfono Se ne andrà A puttane Quindi Ciao microfono E ciao anche a voi Scusate ragazzi Se non ho messo Ehm La musica di sottofondo Ma voglio fare qualcosa Di fast 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 E quindi Niente Vi ringrazio a tutti Per la visione Bella ragazzi Un bacio dal vostro DarkCast92 E a tra poco Con la prossima live Ciao Ciao